Ciao, sono Uga Campora e abbiamo vinto la prima edizione della RANDEMIX 2019. Bravo Uga! Io sono Alex Frezza e chi non risica, non rosica. Sono Matteo Bonandrini e complimenti a questi ragazzi giovani, bravi e umili soprattutto. Sono Giovanni Maffeo e non so cosa dire. No, veramente è poco zero, dopo un'ultima età. Sono Riccardo Russo e viva il teamwork! Sono Luigi Grasso e Proud to be Terrone! Sono Giuseppe Milillo, passione e umiltà!